Mi veniva da dire io sono Nino Di Matteo, poi ci ho ripensato, perché io non sono Nino Di Matteo, perché quello che fa Nino Di Matteo è così talmente straordinario che io non saprei fare altrimenti. Allora è più giusto dire io sto con Nino Di Matteo, con il giudice Nino Di Matteo, e il 14 di novembre sarò a Roma a gridarlo con forza, ma non io, ma tutti quanti. Forza giudice Nino Di Matteo, ciao, forza Nino!